Grazie mille, io ho necessità di andare avanti, volevo chiedere appunto sempre allacciandomi a questo discorso che stavamo facendo anche di altre assemblee civiche che ci sono, se Stefano Soggiu, che è il presidente dell'associazione di prossima democrazia, ci dà a completa il discorso che aveva già un po' accennato, Samuele, sulle altre esperienze di assemblee civiche e la situazione, lo stato dell'arte attuale di questo strumento in Italia. Sì, grazie, mi sentite? Sì. Ok, grazie, innanzitutto ringrazio da parte dell'associazione di cui sono presidente e di cui Samuele è vicepresidente, il Festival della partecipazione di Bologna che appunto ci ha coinvolto nell'organizzazione di questa giornata. Una piccola presentazione naturalmente di prossima democrazia credo che sia dovuta, noi siamo nati, diciamo, da, qualche mese oramai iscrivendoci anche nel registro degli enti del terzo settore, proprio perché abbiamo questa missione, noi vogliamo affiancare come enti del terzo settore i governi e anche naturalmente le altre organizzazioni della società civile a lavorare sulle assemblee di cittadini, diciamo, e su tutti questi strumenti partecipativi, ma in particolare su quelli che prevedono l'estrazione assorte. Siamo un po' partiti dalle considerazioni che facevamo con Alessandro Bellantoni prima, e cioè dal fatto che l'Italia, anche se la sua esperienza può essere un po' rivista alla luce di nuovi dati, comunque rispetto ad altri paesi europei è un po' indietro nell'utilizzo di questo strumento, perché i processi decisionali democratici si sono concentrati sostanzialmente su quelli che prevedono la forma voto, come sappiamo, le elezioni, i referendum, su quelli che prevedono forme un po' più concertative, all'inizio degli anni 90, quindi la concertazione con le parti sociali, di politiche economiche, con i governi ciampi, in particolare i successivi, quindi con le parti sociali, con gli stakeholders, e poi con tutta una serie di forme autoselettive, più o meno obbligatorie, più o meno legate, per esempio con il governo, anche urbanistico del territorio, o altri strumenti, come tanti bilanci partecipativi, come tantissimi processi partecipativi che in diverse parti d'Italia, anche per esempio per le decisioni che riguardavano la politica di coesione, i fondi strutturali, sono nati e si sono sviluppati e poi abbiamo visto anche un discreto sviluppo dal mio punto di vista della gestione diretta di beni comuni con queste forme di sussidiarietà orizzontale e la cittadinanza attiva. Sono cose, diciamo, tutte un po' diverse rispetto a quelle di cui abbiamo sentito parlare fino adesso che si sono sviluppate un po' meno e che hanno determinato un po' il fatto che, diciamo, a partecipare poi alla fine sono chiamate più o meno sempre le stesse fasce sociali, quelle che i studiosi chiamano usual suspects, cioè i soliti noti. E da questo parte un po' il nostro percorso, che è un po' anche in generale il percorso delle assemblee di cittadini e della democrazia deliberativa intesa in senso randomizzato, diciamo così, cioè dell'estrazione assorte. Quindi se escludiamo alcuni casi della Toscana 2008-2013, questa forma randomizzata un po' in Italia è venuta a mancare e se consideriamo, diciamo, le nostre democrazie come degli ecosistemi un po', o qualcuno direbbe meglio degli assemblaggi, citando per esempio filosofi come De Land, ecco, se le consideriamo degli ecosistemi dove più specie devono tra di loro cooperare, anche competere, in alcuni casi, insomma, possiamo dire che quello italiano non è un ecosistema, diciamo, sano sotto tutti i punti di vista, nel senso che non è bilanciato anche con queste forme di rappresentatività che sono diverse e siamo davanti a una democrazia che tende un po' ad oligarchizzarsi, un po' come tante democrazie occidentali, ma forse, diciamo, un po' di più attorno a un nocciolo che è quello degli eletti, degli stakeholder, degli usual suspects, cioè di chi ha risorse da spendere in questi processi, chi ha interesse, eccetera, eccetera. E allora come recuperarli questi cittadini che non partecipano, che stanno alla finestra? Beh, da una parte attraverso il web e il civic tech si può recuperare una parte, cioè coinvolgendoli attraverso la rete, però non basta perché questo determina, voi sapete, non tutti sono sempre in grado e quindi hanno sufficienti competenze per utilizzare questi strumenti, quindi c'è, si dice, un bias, c'è una distorsione verso chi sa utilizzare questi strumenti. Qualcuno propone anche di, diciamo, di spingere sull'andare a cercare nei luoghi dove vivono le persone che non partecipano, si chiama outreach, però molte volte quando io interpello o nei luoghi dove vivono le persone su che cosa, diciamo, potrebbero suggerire rispetto alle politiche, rispetto al governo di una città, eccetera, è difficile che possano esprimere delle opinioni informate in quel momento perché non sono passate attraverso un percorso appunto informativo. E quindi le assemblee di cittadini invece danno una risposta chiara, cioè si parte appunto da liste anagrafiche, liste elettorali, si fa un'estrazione a sorte, come abbiamo detto, le persone che vengono estratte, un'estrazione a sorte anche in due livelli, abbiamo visto, quindi con un doppio livello di estrazione, prima un campione un po' più grande, poi all'interno di quello si forma il cosiddetto mini pubblico, cioè questa fotografia un po' più piccola della società che deve decidere, poi attraverso formazione, informazione, questo gruppo delibera fino ad arrivare a decidere. Certo questa non è l'unica risposta che può essere data, anzi probabilmente, come dicevamo, la interazione tra diverse forme di democrazia diretta, prima per esempio l'assessora parlava di petizioni, parlava di interrogazioni, parlava di iniziative civiche, ma si è parlato appunto di bilancio partecipativo, quindi l'interazione tra i diversi strumenti è forse la risposta che dovremmo dare, però in questo momento ciò che davvero sembra mancare in Italia è un po' questa forma, la forma dell'assemblea di cittadini, la forma randomizzata, la forma della estrazione assorte. Questa specie è una specie che dal nostro punto di vista è anche, per usare un'espressione un po' leggiadra, è anche constitutional friendly in qualche modo perché rispetta alcuni principi importanti della nostra Costituzione. Prima di tutto un principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 1 e dall'articolo 3 della nostra Costituzione, quindi il caso ci rende sostanzialmente tutti uguali, siamo tutti potenzialmente suscettivi di estrazione nel poi determinare raccomandazioni e quindi nell'influenzare le politiche. E poi anche l'idea del principio di imparzialità e di buon andamento che è contenuto nell'articolo 97 della Costituzione e cioè non è sufficiente aprire un bando a tutti perché sappiamo che questo determina autoselezione e quindi se voglio essere imparziale io costruisco un mini pubblico in cui sto attento che la diversità presente in una società sia tutta quanta presente. E così si determinano delle raccomandazioni che sono una forma che sta nell'ambito giuridico della soft law, cioè della normativa non obbligatoria, quindi delle raccomandazioni come abbiamo detto, che però ha una forza che deriva da una certa rappresentatività perché le persone che elaborano le raccomandazioni sono statisticamente rappresentative e ciò che elaborano, che possono elaborare poi da questo punto di vista è naturalmente molto interessante ciò che Nelson e Cato hanno detto prima a proposito di organismi, di disegni delle assemblee che mettano insieme politici, rappresentanti della società civile e cittadini estreti a sorte come nella conferenza sul futuro dell'Europa, quindi assemblee che possono prevedere anche meccanismi in cui i governi eletti sono vincolati in qualche modo alle decisioni delle assemblee di cittadini da maggioranze che devono essere speculari. Traduco, se l'assemblea dei cittadini delibera per esempio con una maggioranza molto elevata, crescita dal 70 all'80% dei voti, una certa raccomandazione, un consiglio comunale, un Parlamento non può diciamo discostarsi se non con una maggioranza altrettanto ampia, quindi questi sono strumenti che nella normativa italiana starebbero per esempio bene. Ed è uno strumento che consente l'istituzionalizzazione perché come dicevo prima ben interagisce con altri strumenti, pensiamo al caso irlandese dove l'assemblea dei cittadini insieme al referendum ha portato a dei risultati concreti in termini di cambiamento istituzionale oppure il caso che dicevo prima della COFOE. Quindi in Italia poco, in Italia poco perché? Perché c'è un punto essenziale. In altri paesi sono nate molte organizzazioni che hanno spinto in questa direzione e noi abbiamo voluto creare prossima democrazia proprio per questo motivo. Dai colloqui, dalle interviste, da tanti incontri fatti nel tempo abbiamo rilevato insieme alle informazioni del rapporto dell'Ox e che in tanti altri paesi ci sono fondazioni, oltre che naturalmente governi che intervengono in questo settore, che finanziano processi, che li supportano e che li sostengono. Quindi un punto essenziale è che in generale la democrazia partecipativa e quella deliberativa randomizzata in Italia hanno molto più bisogno di sostegno, hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di finanziamenti al di là di casi esemplari come quello di Toscana, Emilia Romagna e Puglia. Manca lo Stato sicuramente, lo Stato e le fondazioni devono prendersi molto più in carico il supporto a queste forme democratiche che davvero possono aiutare a sopperire ad alcune evidenti lacune delle democrazie occidentali contemporanee. Per esempio la Francia è un paese che negli ultimi anni ha speso molto da questo punto di vista, noi forse spendiamo troppo per la democrazia classicamente elettoraria a livello nazionale, a livello parlamentare, molto poco invece a livello locale e forse dovremmo finanziare invece molto di più, sia attraverso l'intervento dello Stato, sia attraverso quello di fondazioni questo tipo di forme democratiche. E per concludere è proprio una fondazione che ha dato vita alla prima assemblea di cittadini in Italia, la fondazione di Sardegna, questa piccola assemblea di piccolo comune della provincia di Sassari su cui sto lavorando personalmente, su cui stiamo lavorando anche come prossima democrazia. Il comune si chiama Pulsi, ha non più di 400 abitanti, ma non vi stupisca che si faccia anche in un comune così piccolo un'assemblea di cittadini perché alcune forme di automarginalizzazione dall'attività politica ci sono in tutte le realtà. In fondo la legge ferrea dell'oligarchia si applica più o meno a tutte le organizzazioni, a tutte le società e quindi anche piccolissimi comuni vedono questo tipo di disfunzione. Grazie mille Stefano. Sto chiudendo, dico soltanto che lì è stata fatta l'estrazione assorte, sono stati fatti i primi tre incontri con esperti, l'obiettivo è quello di elaborare raccomandazioni su come rilanciare il piccolo comune rurale e chiudo con una provocazione. E se chiedessimo a cittadini e cittadine italiane invece in questo modo come rilanciare la democrazia in Italia, questo potrebbe essere un tema su cui per esempio stanno lavorando anche le istituzioni francesi in questo momento. Benissimo, grazie.